Ciao ragazzi siamo qui in un nuovissimo video, io sono Marlon Fontana 63 Beh, oggi stiamo avviandoci per scuola con un bagnatissimo terreno Comunque sto andando a scuola, non sto ritornando, sto andando E sono le 7 e 48 La scuola lì inizia alle 8 E mi devo comprare anche la merenda sicuro O 3 euro Vabbè Ci rivediamo in un prossimo video, bella ragazzi Ficca Un pollicione in su e commentate e iscrivetevi Bella